In consiglio comunale si è riunita oggi la Commissione Cultura per avviare la programmazione delle manifestazioni e delle iniziative per il Natale 2013 alla presenza dei rappresentanti delle forze produttive cittadine e delle associazioni di categoria, tra cui Camera di Commercio, Assotravel, Unione Industriale, Confcommercio, Federalberghi e Confesercenti. Per creare poi un tavolo tecnico per organizzare bene questo Natale, per cui penso, mi auguro, avendo l'assessore presente anche oggi in Commissione, possiamo naturalmente iniziare a discutere per il Natale 2013. Credo che vadano occupate un po' tutte le piazze belle di Napoli, che partiamo da Piazza dei Prebiscito, Piazza Dante e io metterei anche in discussione il centro direzionale. Piazzale, che c'è un bel anfiteatro e quello che intendo fare è una mostra itinerante, non so, 10 giorni Piazza Dante, 10 giorni Piazza dei Prebiscito, 10 giorni oppure l'inverso, in modo che tutta la città possa soffrire di questa novità. La prima cosa che ci siamo detto della Presidente è che noi dobbiamo fare un lavoro che abbia come idea guida la programmazione. Concentrare i nostri sforzi per programmare un periodo delle festività natalizie che possa essere dal punto di vista delle presenze che riusciamo ad attrarre in città e quindi dell'indotto che questo può suscitare, possa essere un periodo molto positivo. Grazie. Grazie.